La nostra azienda è specializzata nel settore della ventilazione industriale e arredamento industriale e operiamo principalmente con i grossisti italiani ed europei. La mia esperienza lavorativa è nata come dipendente di grosse aziende, poi a un certo punto sono entrato nel mondo del terziario, ma fortunatamente ho deviato e ho voluto creare un'azienda che abbia un marchio, un brand e un prodotto da poter commercializzare. Noi abbiamo scelto questo prodotto perché la mia esperienza passata aveva delle similitudini con il prodotto che in questo momento stiamo proponendo sul mercato e la nostra strategia aziendale è quella di portare continuamente innovazioni di prodotto. Il nostro mercato si sviluppa nel settore dei grossisti che a loro volta poi consegnano il materiale agli utenti finali. In questo momento l'azienda ha adottato una strategia di migliorare la qualità del prodotto, renderla più competitiva a livello economico sul mercato e industrializzare al massimo la produzione interna. Tra le innovazioni di quest'anno possiamo presentarvi la nuova cappa a condensazione che consente ai clienti un grandissimo vantaggio, quello dell'eliminazione della canalizzazione. Funziona in maniera completamente filtrante nel caso in cui si abbia un forno elettrico o in maniera parzialmente filtrante nel caso in cui si abbia un forno a gas. La cappa a condensazione ha un controllo totalmente automatico, quindi è un prodotto semplice e innovativo che garantisce arrivati standard di qualità, risparmio energetico ed è concepito per essere installato in posizione a vista, garantendo il massimo design. L'innovazione Zafir non si ferma, sono qui a presentarvi la cappa a ozono che rappresenterà il futuro delle cappe aspiranti. Abbiamo all'interno delle lampade che generano ozono e l'ozono andrà a distruggere gli odori fino all'80% e i grassi fino al 100%. Ecco un nuovo prodotto che unisce tecnologia e design, è un banco aspirante completamente filtrante che consente al cuoco di cucinare all'interno di una sala ristorante. Sono a presentarvi il box a ozono, per chi avesse già comprato una cappa tradizionale e vuole usufruire della tecnologia ad ozono. Va installato immediatamente dietro la cappa, consente di abbattere gli odori fino all'80% e i grassi totalmente fino al 100%. Ecco le lampade ad UVC che consentono di generare ozono, l'ozono che ci aiuterà ad abbattere gli odori e i grassi. Possiamo vedere come sia estremamente semplice estrarre il telaio e garantire la pulizia del sistema di abbattimento odori. Noi abbiamo scelto di partecipare alla Oste perché siamo l'unica azienda del nostro settore che abbiamo portato delle novità di prodotto e soprattutto innovazione e questo ci sta dando ragione, visti i risultati della fiera.